Bentornati su MyFootballJersey, quella che vedete è la prima maglia dell'Argentina per la stagione in corso, la 2023, scusate, 24-25, che utilizzerà per la Copa America, questa volta in edizione FUN, l'edizione Player, l'avevamo già vista e la trovate qua. FUN, l'avevamo già, l'avevamo già. La maglia non è niente male, col tempo ci ho fatto un po' gli occhi, non so se è cambiato un po' rispetto alla preview che avevo visto qualche settimana fa. È, secondo me, una bella maglia, ma la maglia che ha vinto i mondiali per me è più bella. Poi ditemi voi nei commenti se siete d'accordo o meno. Prezzo molto basso, ottimi tempi di spedizione. Nei commenti lasciatemi le vostre impressioni e ditemi cosa vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Grazie! Grazie! Grazie!